Un buongiorno e buona domenica e siamo pronti per sentire le novità dalla griglia. Buona domenica a Fiammette e a tutti quelli che ci seguono da casa. Splende il sole e questa volta non abbiamo paura a dirlo sulle rive del Santerno perché le previsioni sono ottime per tutta la giornata, al contrario di quando è successo ieri. Però per quanto riguarda la F2000 Top Jet Series hanno scampato il diluvio universale che si è abbattuto sul circuito, quindi gara che si è svolta in maniera regolare su una pista quasi completamente asciutta. Vittoria davvero incredibile di Bernardo Pellegrini che è ritornato dopo un infortunio e ha centrato una vittoria stagionale. Adesso siamo qui per gara 2, una griglia che vede in pole position Sandro Zeller e in seconda casella il ventenne, infatti il numero 99 che c'è sulla sua livrea proprio è l'anno di nascita di Andrea Cola, ieri sfortunato, un piccolo errore in stallo, in partenza che ha pregiudicato la tua gara. Sì, ieri ho fatto un errore ma è stato un problema anche della frizione che purtroppo sono riuscito a partire bene ma poi dopo la macchina mi ha stallato e oggi cercherò di fare la partenza un po' meglio e cerchiamo di stare sempre tra le prime posizioni invece di fare la rimonta come ieri. Bene, occhi che brillano sotto il casco quelli di Andrea Cola e che tradiscono la giovane età e andiamo invece in casella numero 3 con Riccardo Perego ieri splendido podio in gara 1. Sì, giusto, anche se abbiamo commesso un piccolo errore all'uscita della variante Villeneuve e vediamo di rifarci oggi in gara 2. Bene, l'appetito viene mangiando quindi buona la prima ieri per Bernardo Pellegrini oggi parte dalla quarta casella Bernardo, l'appetito viene mangiando, come ti senti oggi? Mi sento bene, più o meno come ieri partiamo dalla posizione inversa come pista però cerchiamo di far bene e magari ripetere quello che abbiamo fatto già ieri che è stato un gran lavoro di squadra. Bene, buon divertimento, la linea Fiammetta-La Guidara. Grazie Camilla, vado subito a presentarvi il nostro ospite Doyle, bentornato in cabina di commento a Piero Longhi Ciao Piero, buongiorno Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati Ben ritrovati, pronti per un'altra sfida sicuramente appassionante ieri il filo conduttore della gara è stata la rimonta incredibile di Andrea Cola per questa partenza che purtroppo non è andata benissimo era addirittura tredicesimo al primo intermedio e poi è riuscito a risalire, certo però gara compromessa ma tu che ieri lo hai visto, com'era Andrea Cola? Sì, alla fine di gara era un po' dispiaciuto perché partiva in prima fila quindi sicuramente gli è mancato questo problemino in partenza che oltretutto purtroppo non è così difficile se si muore la frizione troppo velocemente la macchina tende a spegnersi probabilmente da quello che mi ha detto si è addirittura spenta quindi è stato bravissimo a fare ripartire perché quando si spegne la macchina possono passare diversi secondi quindi ha fatto una bella rimonta è arrivato a ridosso dei primi però sono gare abbastanza sprint di 25 minuti quindi non hai il tempo di recuperare tutto quel distacco che aveva preso adesso speriamo che parta bene perché ha comunque recuperato qualche punto in campionato la situazione del campionato dopo la gara di ieri è la benesima cioè Perego in prima posizione ma Bottiroli ha guadagnato 4 punti giusto per l'errore di Perego che ha fatto ieri perché era davanti a Bottiroli in una buona posizione ma se vi ricordate ha fatto un numero da reddista alla Villeneuve per fortuna è andato tutto bene è riuscito a tenere la macchina in strada infatti è poi riuscito ad arrivare comunque sul podio per quanto riguarda il top jet Formula 2000 dove ricordiamo appunto Vittoria di Pellegrini seconda posizione di Bottiroli terza per Perego e appena ai piedi del podio Andrea Cola quinto assoluto ma quarto degli italiani intanto la griglia di partenza viene liberata manca pochissimo al warm up lap condizioni meteo questa volta finalmente ottime eccola la griglia Cassandro Zeller e Andrea Cola in prima fila poi Perego e Pellegrini in seconda Bottiroli e Tobler in terza fila Bolen e Beckhauser Rasero e Colucci Lattanzi e Gruber Tapinos dalla Grecia e Stoller una griglia internazionale con Rosi e Giannacone in ottava fila Kakowski e Areger in nona Munger e Buckley in decima poi Grer e Puz a chiudere lo schieramento di partenza abbiamo due piloti che sono qua con noi per la prima volta che sono Colucci che ieri è andato molto bene perché ha fatto il secondo tempo la seconda posizione della classe 2 quindi al debutto e anche Rosi che anche lui ha fatto terzo e quindi direi molto bene oltretutto Bottiroli c'è anche da dire che è arrivato a praticamente a un decimo da Pellegrini quindi oggi si prospetta veramente una gara penso emozionante e combattuta perché oltretutto Bottiroli venerdì ha avuto un grosso incidente quindi anche parlando con lui Coglieri ci ha messo qualche giro prima un po' di riprendere un po' di capire se la macchina era tutto a posto perché hanno lavorato tutta la notte quindi sono stati il team sono stati i J-Force sono stati bravissimi e anche lui logicamente dopo una botta del genere deve un po' dover prendere fiducia e direi che l'ha ripresa molto bene perché è arrivato a riloso il punto di Bernardo ah sì ha fatto davvero una gran gara poi ci sarà da vedere un po' anche Beckhauser che sta facendo una bellissima gara ieri poi ha commesso una sbavatura ma alla fine insomma in questa occasione è atteso anche lui alla riscossa altro giovanissimo pilota che arriva dalla Repubblica Ceca ricordiamo che la Topjet F2000 Italian Trophy si svolge in gemellaggio con l'analoga serie austriaca con due classifiche naturalmente per i piloti italiani per gli austriaci alcuni però partecipano ad entrambe le classifiche ad entrambe i campionati sì sì era così in difficoltà è riuscito proprio arrivato all'ultimo giro con solo la quarta dentro e quindi logicamente sono stati molto bravi i meccanici della Pure Sport a risolvere il tutto adesso vediamo parte leggermente indietro però diciamo che il potenziale suo ha tutto per cercare di rimontare ha un problemino comunque che per lui è la prima volta che che è in queste condizioni non potrà usare il paddle shift c'è il cambio al volante ma dovrà usare la leva come una volta e per me non era un problema perché l'abbiamo sempre usata lui mi ha detto che è la prima volta e quindi ci sarà ecco da vedere un po' di rotaggio come riuscirà diciamo a interpretare questo suo nuovo modo di cambiare che per lui in effetti come ho detto prima ha sempre usato comunque il cambio volante che dà sicuramente una grossa mano perché permette a parte la velocità di cambiata anche di tenere le mani sul volante andiamo in griglia di partenza con la nostra Camilla Ronchi Sifiametta come hai anticipato è stata accorciata la gara quindi 21 minuti e il direttore di gara mi ha confermato che alle 10 e 18 sarà alzato il cartello dei 5 minuti poi naturalmente si partirà quindi abbiamo qualche minuto per parlare e sentire i protagonisti di questa gara 2 uno dei grandi protagonisti anche del campionato Antoine Bottiroli è successo tutto dietro di te però questo naturalmente mi fa perdere un po' la concentrazione se mi spiace cosa sia successo speriamo già che nessuno non sia fatto male se no si è un po' caldo stiamo lontano dalla macchina senza fare niente ma vediamo adesso un po' di spazio vediamo un po' cosa esce speriamo che adesso gli incidenti sono finiti Sì Antoine ti confermo che i piloti stanno tutti bene quindi soltanto il tempo di rimettere in sesto la pista perché naturalmente tutto si svolga in sicurezza e si ripartirà andiamo a sentire anche i protagonisti comunque che arrivano dalla serie austriaca il master il master clover ok di poche parole dice sono qui potrebbe essere davvero una gara interessante tantissime le monoposto che sono schierate su questa griglia di partenza 22 vetture quindi una gara un round quello di Imola che ha attirato davvero l'attenzione di tanti piloti che vengono in Italia innanzitutto perché si tratta di un una gara interessante andiamo a sentire un altro pilota Tom Beckhauser come ti senti di stare qui in Imola è davvero un circuito iconico mi piace questo traccio mi piace la gara anche a lui piace questo tracciato questo circuito e poi adesso comunque la linea un attimo ritorna al commento di Fiametta alla Guidara io mi sposto indietro per sentire magari i piloti che hanno assistito a quello che è successo davanti a loro grazie Camilla sì intanto noi stavamo anche Piero Logchi stava cercando di scoprire se c'era qualche informazione nel frattempo dai box per quanto riguarda la ripartenza e i protagonisti ma intanto vediamo che cioè fare una under investigation chiaramente logicamente è una cosa dovuta perché c'è stato un contatto tra due piloti e da capire da come ho visto questo io poi mi sembra un incidente di gara tutto penso che è dovuto al fatto che Perego non è partito benissimo e quindi ha rallentato qualche pilota dietro che forse nel cercare di evitarlo ha leggermente toccato la sua go ma ha innescato poi questa carambola però ci sono dei giudici dei commissari molto validi che stanno valutando sicuramente la cosa e intanto torniamo da nostra Camilla Ronchi si con Giampaolo Lattanzi uno dei protagonisti di questo round tu eri dietro quindi hai visto quello che è successo perlomeno ti sei reso conto sono trovato una macchina levata in traversa mi sono spostato sulla destra evitata ho visto un po' di pezzi credo che lo spavento sia stato tanto però adesso sei qui schierato in griglia di perdenza a Imola con tanta voglia di arrivare immagino esatto quanto caldo fa sotto il casco come? quanto caldo fa sotto il casco non molto non molto soprattutto se si parte si sta bene questo è il vantaggio naturalmente delle ruote scoperte che anche se fa veramente caldo comunque c'è sempre l'aria piacevolissima che dà sollievo continuiamo la nostra passeggiata in questa lunghissima griglia di partenza purtroppo mancano dei protagonisti vediamo delle caselle vuote perché c'è stato proprio al pronti via un contatto che ha coinvolto parecchie vetture è un pilota che arriva dall'Argentina Capinos in spagnolo o inglese? In inglese è ok per te? ok come senti di stare qui in Himola? è la mia prima volta in Himola è una storia storica sono molto entrati non avevo molto tempo per imparare ma ho i basi quindi faccio il mio best per la race oggi bene felicissimo di essere qui a Himola non ha avuto molto tempo per imparare quelli che sono i segreti del circuito del Santerno ma dice sono qui e cercherò di fare del mio meglio e continuiamo arriviamo proprio fino alla fine di questa griglia di partenza con Rosy Rosy è un altro protagonista di questa serie una griglia di partenza che prima della partenza contava 22 vetture è un po' più libera adesso la strada ho la strada un po' più libera tu eri dietro ti sei reso conto di quello che è accaduto ho reso conto perché ho visto che davanti rallentavano e poi ho visto una macchina che si girava lì contro il muro allora ho visto un po' di parapiglia e ho deciso di passare un po' sull'erba per evitare guai e problemi bene chiaramente questo provoca degli spaventi e poi anche qualche apprensione apprensione naturalmente fa perdere un po' la concentrazione però adesso è il momento di riprendere tutte le energie riconcentrarsi una buona partenza era stata una buona partenza per me vediamo di rifarla anche meglio dai bene a voi magari ritorno dopo grazie Camilla allora abbiamo sentito poi i protagonisti di questa gara Rosi insomma diceva aveva una strada un po' più libera sì Rosi come ho detto prima è al debutto in questo campionato ci teneva tanto venire è una pista molto bella lui che ha fatto delle gare su circuiti un pochino più corti tipo Varano Vallelube Cremona e Franciacorta e sì qui hai visto quando c'è una caramola del genere logicamente i piloti dietro quelli più indietro hanno il tempo per capire dove andare e quelli invece direttamente coinvolti non hanno potuto fare niente fortunatamente è successo niente quattro macchine cinque macchine sì cinque macchine ferme peccato quindi una griglia come vedete con qualche posto vuoto come vedete soprattutto nella parte di sinistra del vostro teleschermo e comunque nella seconda fila manca Perego che peccato perché è il protagonista fino ad oggi del 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 campionato top certo è infatti davvero peccato la gara adesso riparte speriamo che vada tutto bene e che ci sarà una che sarà una bella una bella gara combattuta pronti quindi per il warm up lamp si riparte intanto un nuovo giro di ricognizione per i protagonisti del Top Jet Formula 2000 Italian Trophy che torneranno in azione per quanto riguarda questa serie tra poco meno di un mese nel prossimo ACI Racing Weekend sul giubbito sul cano del Mugello 2021 di luglio vi ricordo che l'ingresso agli ACI Racing Weekend è gratuito e è possibile scaricare il coupon dal sito di ACI Sport e l'invito naturalmente ad essere presenti numerosi perché agli ACI Racing Weekend comunque si vive una sfera davvero particolare dove si può andare a vedere come ci si muove dietro le quinte delle gare come i piloti si preparano come le vetture vengono messi a punto per scendere in pista è davvero una pulibersa sì poi Puggello è un altro GP veramente top molto famoso come sapete per il GP però io ho corso i primi anni con formula le due arrabbiate con queste macchine queste fanno in pieno addirittura io mi ricordo che è talmente faticoso perché ha un carico di dinamico incredibile si entra circa 210 all'ora pieno senza tirare sul gas e si finisce senza sempre tirare sul gas perdiamo circa 7-8 km solo per il carico di dinamico mi ricordo che dopo due o tre giri io puntavo il ginocchio al volante al volante per tenere il volante quindi questo ti fa capire che queste vetture sono anche anche a livello fisico bisogna essere comunque molto preparati soprattutto quando si gira in circuiti tipo Puggello con queste più veloci o anche a Imola è logico la gara come a Monza ci sono i contori di fare sicuramente fatica mi ricordo la macchina di un'utero guida quindi quando il carico è dinamico oltre dopo 250 all'ora è veramente elevato l'aria fa una pressione sulla vettura incredibile quindi lo sterzo diventa ma non solo a girarlo ma anche il ritorno quindi non solo devi girarlo ma poi lo devi anche tenere il problema è quello quindi grande fatica fisica quindi diciamo vantaggi e svantaggi delle ruote coperte e delle ruote scoperte in questo caso quindi come dicevano alcuni dei piloti si sta un po' più freschi perché sì su questo punto di vista di sicuro io con la macchina della rally so che quando ci sono tanti gradi fuori abbiamo fatto un Milano rally show settimana scorsa con 32 gradi in macchina c'erano 60 invece qua mi ricordo che è caldo quando sei fermo ma poi poi quando vai no di aria se ne prende tanto meglio che l'aria condizionata questo è sicuro ormai mancano pochi minuti schieramento il commissario alla fine dietro vedete la bandiera verde quando c'è la bandiera verde il direttore di gara può far partire il countdown del semaforo si accendono come in Formula 1 una luce dietro l'altra quando si spengono solo quando si spengono le macchine possono partire pronti quindi per la procedura che va a completarsi vedete dal fondo dello schieramento viene dato l'ok in questo momento il semaforo si accende al suo spegnimento lo start il nuovo start del Formula 2000 Italian Trophy diretta dal circuito Dimola parte bene Zeller anche Pola bene per ora il primo posto è partito bene Pola il pellegrino in terza posizione iniziamo Pola è primo del Formula 2000 è partito bene in questa occasione Pola vediamo che cosa saprà fare visto che ieri è stato molto bravo nella sua rimonta dalla 13 della posizione a Pellegrino e dopo un numero 51 che inizia è un po' tra la gomma fredda è quello che sono basti fermi anche i 12 quindi un nuovo filo di warm up ma sì la norma si raffredda molto e quindi si è riuscita a scaldarla a vedere questo può essere un leggero errore di Bernardo in uscita leggero sottostanza perché è stato molto bravo a tenerla non ha perso la posizione perché infatti il futuro è quarto ha perso solo un pochettino il contatto dai primi due ecco questo ha favorito Zeller e Cola vedete sono uno nella scia dell'altro e hanno già preso qualche metro di vantaggio nei confronti degli inseguitori che sono capitanati proprio da Pellegrini poi con Tiroli Polen Beckhauser che sicuramente avrà molta voglia di riscatto il giorno del pilota della Repubblica cerca che ieri è stato protagonista della lotta per le prime posizioni salvo poi invece non poter concludere la sua gara vediamo se riuscirà a riscattarsi Dobler tra zero con Lattanzi ottava posizione per Razero che si sta difendendo da Lattanzi poi Tapinos e Rosi che ha approfittato della pista un po' più libera davanti a sé come aveva detto al microfono prima del via intanto si conclude vediamo il primo giro Costello e Recola che hanno già un passaggio di due secondi e otto su Pellegrini poi con Tiroli Polen e Beckhauser in sesta posizione della gara ancora più breve di tutte le altre perché 21 minuti più un giro adesso sono rimasti intanto già poco più di 18 minuti a disposizione per dire la propria intanto un piccolo errore piccola sbavatura per Bolen che in sesta posizione tenta di appuntarne Dobler che si affianca che però è costretto ad accodarsi ancora una volta guardate che Belghetto intanto Zeller e Cola ottima la loro partenza attenta ancora a Bolen vediamo in sesta posizione Beckhauser quinto vediamo che anche Bernardo Pellegrini sta facendo una stanza sta perdendo un po' di contatto con il privido con la sbavatura che ha un romano quindi ha Bottiroli praticamente attaccato e qui davanti comunque vi ricordo che Cola ha iscritto 2 campionati quindi per lui anche Zeller è un avversario è un avversario del campionato dell'Austria mentre una bella lotta sarà Bottiroli e Pellegrini perché Bottiroli deve approfittare della mancanza di Perigo per il campionato Pellegrini invece difficilmente farà altre gare spero che ci sarà un gelo e intanto Dobler Dobler passa a Bolen che ora abbiamo visto leggermente in difficoltà quindi avanti una posizione per Bolen vediamo che Beckhauser è molto molto vicino a Bottiroli che sta sfruttando la scia in un ragazzino molto veloce bravo Antoine Bottiroli ha infrenato non gli ha lasciato spazio ecco logicamente come vedete il fatto che Beckhauser è attaccato Bottiroli disturba un po' Bottiroli infatti Pellegrini ha preso un po' di vantaggio perché si è costretto a guardare l'iscrizione e quindi è sicuramente una distrazione in più che fa sì che vedete che possa cercare anche di ripetersi infatti è stato invitato Pellegrini per un po' di vantaggio ecco questo campo lungo che ci mostra i stacchi tra i primi due e il gruppo degli seguitori Andrea Bola mette il giro veloce un 42 e 626 di qualche decimo più veloce di anzi di qualche centesimo appena più veloce di Zeller che dura 42 e 6 hanno già 4 secondi di vantaggio nei confrotti Pellegrini che ho la sensazione stia facendo un po' da tappo Bottiroli come dicevi Piero non si sta diciamo sbilanciando e non sta lasciando scoperta ovviamente la guardia ad intentare di sorpassare Pellegrini perché si sta difendendo a sua volta da un Beckhauser che è più veloce di lui perché 1.43.5 Beckhauser è più veloce sia di Pellegrini che di Bottiroli adesso ho visto che Bottiroli sta riflettendo il giro per ritmo e ha un po' semplicemente più di vantaggio vediamo se riuscirà in primi due la veste facendo per ora una gara a sé molto importante per Andrea Cola anche per il campionato sport di fare tutti i possibili visto il problema che ha avuto ieri e sta facendo il suo vediamo che Bottiroli in effetti ha preso un leggero vantaggio su Beckhauser e vi ricordo che Bottiroli ha 512 il Beckhauser invece ha 518 e anche Pellegrini ha una 308 che è un corretto di euro adesso vediamo se Bottiroli cercherà di andare vicino a Pellegrini e cercare di soppassare la tutta due un corretto più importante e intanto vedete che Pellegrini ha cercato di allugare approfittando del fatto che Bottiroli fosse disturbato da Beckhauser vediamo intanto le inquadrature per Pellegrini per Pellegrini e Pellegrini e la Tansi che sono nella scena l'altra settima ottava e nona posizione poi a seguire decimo Tapino undicesimo Rosi e poi Buckley Cakowski Puder Groer e tutti gli altri mentre vediamo che Sandro Zeller ha risposto ad Andrea Cola con tempo stratosferico 1.41.890 per lui quindi allunga che adesso ha 8 decimi di vantaggio su Cola mentre Under Investigation anche il secondo start questa seconda partenza non ci sono arrivate comunicazioni di penalità o proprio per quanto riguarda la partenza che è stata effettuata questa mattina che poi ha determinato la bandiera rossa con il contatto che ha coinvolto 5 vetture ma non ci sono state per il momento se non abbiamo comunicazioni no ecco come immaginavo nella prima nella prima gara non ci sarà nuovazione è stato considerato un contatto di gara effettivamente vedendo le immagini così anche a me era forse una situazione non voluta e quindi non ci sono azioni per il pilota Andrea Cola intanto ha risposto a Zeller un po' ti ha risposto tra i due in questo momento che stanno lottando per la testa della gara 41.7 41.7 41.8 sta tirando tempi di gara su tempi da qualifici basi e mi sa che è veramente molto nuova di 9.0 sta facendo molto meglio come ho detto prima ha un cambio di vecchia concezione con la leva tra l'altro è avuto ieri come un cancro adorante sta prendendo confine anche perché era molto preoccupato visto che la prima volta che lo usava e invece non è il suo passo perché la 44 non gira nettamente più veloce però in queste condizioni direi che sta facendo ecco le inquadrature per Zeller e Cola che ha ridotto il gap dal leader della gara come stava sottolineando Piero Longhi Cola partecipa anche alla serie austriaca quindi i punti sono per entrambi i campionati e Zeller è un suo avversario vi ricordo che invece Sandro Zeller è trasparente per quanto riguarda la serie tricolore ma Andrea Cola essendo iscritto ad entrambi ovviamente avversari sia italiani che svizzeri per cui in questo momento è secondo per quanto riguarda il punteggio nella serie svizzera mentre è primo per quanto riguarda il punteggio nella serie italiana con Pellegrini e Bocchironi che sono al momento virtualmente sul podio la quinta posizione di Beckhauser è un po' da risposta continuo tra i protagonisti delle prime due posizioni perché Zeller ha messo ancora un bel giro su 1.42 1.41 6171 che è il nuovo giro veloce della gara e adesso ha portato a secondo il suo vantaggio su Andrea Cola i due hanno staccato nettamente il resto del gruppo 7 secondi e 7 infatti c'è Pellegrini con Bottiroli e Beckhauser alle loro spalle poi Tobler in sesta posizione dopo il bel spazio nelle prime parti di Bolen ragazzo e 8 la stanza non assoluto e poi Tapino sta a completare la top 10 siamo con le inquadrature su Bottiroli che vedete alle sue spalle a Beckhauser che però in questa occasione mi sembra Piero non è così aggressivo come nella gara di ieri è un po' più guardico probabilmente anche perché ha avuto un ritiro e un ritiro una gara uno di ieri quindi forse adesso si è un po' più calmato lui è molto molto veloce però deve anche cercare di portare a caso dei punti del campionato abbiamo visto in effetti la parte che comunque Pellegrini e Bottiroli sono veramente più assicure come delle macchine e che non è facile per lui tenere tenere il passo vediamo che sono abbastanza grandi e quindi si vede all'interno la posizione di prima diciamo senza solo in questo momento sia Pieroli che sono abbastanza raccisti vediamo che Pieroli sia contenta della posizione e quindi ci sono riusciti a comprare la gara uno per entrare tra tutti oppure cercherà di dare la sua fine gara come ha fatto che riuscirà vicino a Pellegrini per cercare di passare vediamo che per quanto riguarda i tempi Bottiroli 1.42.7 dell'ultimo passaggio è il proprio miglior passaggio vuol dire che sta puntando a rosicchiare metri nei controtti di Pellegrini che lo precede infatti adesso il loro gap è leggermente diminuito un secondo e due soltanto tra Bottiroli e Pellegrini e ricordiamo che al momento sono rispettivamente sul terzo e sul secondo gradino del podio per quanto riguarda il podio della serie tricolore mentre Beckhauser 1.42.9 ha perso e lì in realtà i tempi sono abbastanza simili si si lo vedete anche dal teleschermo le posizioni sono quelle infatti i tempi vediamo 42.9 Bottiroli 42.7 42.7 Bottiroli 42.9 Beckhauser e 42.9 anche Pellegrini quindi si vede a vista che non avvicinarà quindi stanno veramente girando con tempi uguali stanno capitalizzando per quanto riguarda le loro posizioni 8 minuti e mezzo allo scadere del tempo regolamentare poi ancora un giro mentre intanto la temperatura sull'asfalto adesso ormai è quasi di 43 gradi si sta caldando anche l'aria qui sul circuito di Imola in una giornata davvero splendida che è appena iniziata per quanto riguarda questo AC Racing e Weekend e quindi se siete nei paraggi vi invito a venire a trovarci e noi sarei qua fino a questo pomeriggio inoltrato con un lungo ed interessante programma di gare tra ruote coperte e ruote scoperte per quanto riguarda l'F2000 Italia l'anatrosi questo invece il secondo appuntamento del weekend la gara 1 si è svolta ieri e tornerà in pista del 2021 luglio sul circuito del Mugello ma intanto gustiamoci questo finale di gara e vediamo Pellegrini che sta guidando questo gruppetto con Bottiroli e Becauser alle sue spalle ma in questo momento direi che Becauser si sta un po' avvicinando qualcosa di non è rosicchiato qualcosa di non è rosicchiato su Bottiroli e inoltre volevo dire per classe 2 che l'assenza di Perego dove fino ad oggi ha dominato la classe 2 fa sì che in questo momento è tutto un peccato anche per il tiro di Colucci che ieri ha fatto secondo posto in classe 2 in questo momento c'è Lattanzi primo e Rosi secondo Lattanzi che rientra dopo quasi un anno di assenza nel nostro campionato e Rosi che ha il debutto quindi sono abbastanza in posizioni stabili in questo momento mentre in effetti Cola sta facendo la differenza perché vedete che Pellegrini ormai ha circa 11 secondi quindi il passo di Andrea Cola in questo momento è eccezionale ottimo e per lui punti molto preziosi vediamo se cercherà di attaccare Zeller oppure se anche lui si accontenta dalla posizione in questo momento non è distantissimo perché ha due secondi e mezzo e quindi potrebbe anche tentare c'è ancora mi sembra 5-6 minuti più un giro spaventato spaventato vi ricordo che c'è un giro un giro in più e quindi vediamo vediamo qual'è cosa sta pensando Andrea su cosa fare oppure può anche essere che il passo di Zeller in questo momento è uguale al suo vedete i tempi sono 42-069 Zeller 42-094 praticamente millesimi tra i due quindi anche per Andrea è buono questa staccatona è stato per Bottiroli come avete visto è incredibile basta un errore si è avvicinato subito Beckhauser Pellegrini ha preso un po' di vantaggio un piccolissimo errore si perdono quei decimi preziosi e poi il Beckhauser adesso sta sfruttando la scia è un autovicino sicuramente qui tenterà bravo bravo Bottiroli a difetto la posizione è stato un autovicino in strada per Beckhauser il punto Bottiroli è stato molto molto forte e quindi non facile per Beckhauser passarlo staccata anche se nel lungo ripieno la macchina prende veramente molta velocità infatti abbiamo visto come Beckhauser è riuscito a portarti subito degli scarichi di Bottiroli però poi a chiudere la porta vediamo la regia cosa ci mostra intanto Tappinus che va in ghiaia e si inghiaia come dici Tappinus ieri ha fatto un 360 ed è rimasto in strada adesso si è inghiaiato adesso si è inghiaiato e quando quando entri la safety car penso che sia in una posizione un po' sicuramente pericolosa e giustamente fare la safety car è peccato 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 però di positivo è che adesso si avvicineranno i pellegrini si avvicineranno di nuovo a cola e se ci sarà il tempo poi di fare qualche giro di nuovo in gara sarà sicuramente molto emozionante perché gli 11 secondi 12 secondi che c'erano tra cola e pellegrini come vedete adesso si azzereranno e quindi ripartiranno tutti in fila assolutamente quindi al momento regime di safety car per l'uscita di Taminos come detto ieri è rimasto in strada qui invece è andato in ghiaia probabilmente in una posizione sicuramente in una posizione pericolosa e quindi giustamente la race control ha messo dentro la safety car con 3 minuti 24 la vedo è un po' difficile che riprenda la gara sì che la gara possa riprendere è necessario intanto cola aveva recuperato e addirittura aveva siglato il miglior crono in 1.41 439 davvero un tempone aveva ridotto moltissimo il gap da zeller e quindi stava evidentemente meditando un attacco poi però c'è stato l'ingresso della safety car per l'uscita di tapinos e questo ha rovinato sicuramente i piani di cola nei confronti di zeller l'attacco al vertice della gara ricordiamo che cola partecipa anche alla serie svizzera quindi sarebbero stati punti importanti per lui anche in quell'ottica mentre per quanto riguarda Becauser aveva messo nel mierino pellegrini e aveva già cominciato a provare anche un attacco le inquadrature per il lungo serpentone capitanato da zeller che sta scaldando gli pneumatici ecco sembra un qualcosa forse di superfluo considerando che ci sono 43 gradi sulla vista però la gomma quando si inizia quando si va così piano la gomma si raffredda quindi bisogna cercare di tenerla comunque in temperatura perché se poi c'è la ripartenza la gomma deve essere subito pronta oltretutto il tempo di cola è molto molto buono pensate che lui ha fatto 47 ma qualche decimo in più 2,4 vuol dire un passo quindi ecco visto il tempo che ha fatto probabilmente nella sua testa c'era c'era rientra la safety car abbiamo ancora due giri circa due giri si riescono a fare complimenti davvero a tutto il personale si perché sono stati velocissimi tirare fuori una macchina dalla ghaia non è così qualcosa così immediata e quindi in due minuti sono riusciti a liberare la pista come vedete la safety car ha spento le luci quindi il segnale per i piloti è questo i piloti vedono che la safety car non ha le luci spente e quindi rientrerà vi ricordo che non possono sorpassare nessuno fin dopo il traguardo quindi se qualcuno sorpassa prima c'è poi un drive-full una penalità un drive-full in questo caso perché manca troppo poco quindi sarebbe direttamente una penalità quindi attenzione momenti comunque di grande concentrazione per i piloti anche la ripartenza da una safety car potrebbe sembrare una cosa facile invece non lo è assolutamente anche la distanza che bisogna mantenere dalla safety car deve essere rispettata Zeller sta compattando un po' il gruppo e 34 secondi può anche essere che se passa se Zeller passa sul traguardo a zero manca solo se invece probabilmente riesce a passare sul traguardo prima della fine quindi due giri intanto guarda come è Dobler questo è il problema della gomma vediamo dove sarà nel momento sì perfetto due giri due giri Piero bene vedete che cola ne approfittando ci prova subito giustamente lotta per la prima posizione sì un tentativo sicuramente di disturbo invece vediamo che gli altri sono abbastanza sperati come ti dicevo nella ripartenza sul momento con gomma forse anche troppo fredda hai un leggero sullo stesso che ha fatto troppo a rispetto per l'acqua per fortuna tutto bene vediamo intanto che subito Andrea Pola è una taccatona la tanziera zero si trinotta la tanziera zero che sono Ottavie e No e vediamo se Andrea Pola riuscirà quindi a coronare il suo obiettivo di fornire Sandro Zeller che è stato imprendibile per tutta la gara si era avvicinato Andrea Pola poco prima che entrasse la safety car per il testacuda per l'impiaiamento di Tapinos ma intanto ora ci sono due giri ormai un giro e mezzo alla conclusione della gara quindi vediamo se ci sarà la possibilità per Andrea Pola o se Sandro Zeller come sta cercando di fare riuscirà ad allungare e tanto Beckhauser si è portato davanti a Bottiroli ed è alle spalle di Pellegrini quindi Beckhauser che avevamo visto molto grittoso anche poco prima della safety car è riuscito nel suo obiettivo di sorpassare Bottiroli e adesso si trova in quarta posizione assoluta con Bottiroli in quinto ma sempre terzo della serie italiana inizia ora l'ultimo giro vedete sono uno nella scia dell'altro questo è l'effetto della safety car vediamo il distacco 1.42.9 per Zeller 1.43.7 per Cola che ha perso terreno Zeller è stato molto bravo ad accelerare e adesso vedete Beckhauser che ha messo nel mirino Pellegrini Bottiroli intanto cerca di non perdere il contatto dai primi due che però nella staccata guadagnano qualche metro e in questo momento Beckhauser mi sembra molto aggressivo nei confronti di Pellegrini mentre Cola tenta di recuperare qualcosa nei confronti di Zeller abbiamo intanto un'uscita con il numero 33 si tratta di Rosi oh peccato per Rosi eh sì peccato però comunque viene classificato quindi la sua seconda posizione nella classe 2 rimane perché l'ultimo giro sembrava più una rottura eh sì sì quindi ha potuto accostare esce di scena Rosi ma ha potuto rimane in classifica rimane sì secondo in questo momento c'è la Tanzi primo in classe 2 e invece per quanto riguarda abbiamo la prima posizione Cola con Jet Pellegrini in secondo Bottiroli in terzo così rimane anche classe 1 Cola Pellegrini in Bottiroli classe 2 Rasero Lattanzi scusate e Rosi e il nostro trofeo che è la somma di gara 1 di gara 2 se finisce così la gara è in mano a Pellegrini Cola tanto va all'attacco vedete ma ormai siamo agli sgonciori la bandiera a scanchi che attende Zeller che riesce a festeggiare la sua doppietta con Cola in seconda posizione poi Pellegrini che difende la sua terza posizione assoluta secondo degli italiani davanti a Beckhauser che ci ha provato fino all'ultimo e intanto anche Cola 5 decimi ha fatto un ultimo giro in 1.41.9 ha recuperato 5 decimi nei confronti di Zeller ma non c'è stato niente da fare la safety car è stata determinante per Andrea Cola mentre Beckhauser è stato fortunato e bravo nel riuscire a sorpassare Bottiroli quindi conquistando la quarta posizione assoluta secondo degli anzi terzo della serie Svinsera per Beckhauser considerando che Cola è secondo Pellegrini è terzo assoluto secondo degli italiani e Bottiroli è terzo della serie italiana questa è la classifica infatti abbiamo vittoria di Cola Andrea è stata durissima è successo di tutto però alla fine la gara ti ha la tua ragione sì sì finalmente siamo riusciti a fare una buona partenza e niente siamo riusciti a stare attaccati a Zeller tutta la gara purtroppo non sono riuscito a sorpassarlo neanche dopo la safety car però buona gara grande soddisfazione per Andrea Cola che insieme agli altri piloti stanno andando al podio noi Highlights e ci vediamo ancora grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ok? Grazie a tutti.